Un cordiale saluto da Gigi Moncalvo e benvenuti alla ottava puntata di Agnelli Segreti il nostro lungo e documentato racconto che vi ha fatto entrare nei misteri, nei segreti e che lo farà anche nelle prossime puntate soprattutto in questa, nei segreti del patrimonio nascosto all'estero dall'avvocato Gianni Agnelli dunque siamo concentrati su quelli che sono i documenti ai quali abbiamo potuto attingere documenti che si trovano allegati agli atti dei vari processi che si sono celebrati in Italia che riguardano anche una inchiesta molto dettagliata della Procura della Repubblica di Milano sostituti procuratori Fusco e Ruta e che riguardano anche alcuni processi ce ne sono ancora tre che sono aperti in Svizzera i documenti sono quelli diciamo in cui la figlia dell'avvocato, l'erede al 50% insieme a Donna Marella, sua madre dei beni dell'avvocato in Italia e all'estero vuole fare luce perché dice io voglio sapere qual è il patrimonio di mio padre prima di firmare o di accettare qualunque divisione ebbene è questo il punto vede una grande reticenza Margherita Agnelli vede una grande omertà capisce che ci sono delle manovre sospettose contro di lei per impedirle di avere la situazione chiara la situazione patrimoniale che riguarda l'immenso tesoro accumulato da suo padre negli anni attenti quando noi parliamo del tesoro di Gianni Agnelli non dobbiamo dimenticare una cosa che il tesoro di Gianni Agnelli è costituito non soltanto da ciò che Gianni Agnelli ha accumulato nel corso della sua vita i profitti delle sue aziende gli investimenti la speculazione finanziaria sui titoli e tante altre cose ancora ma dobbiamo ricordare sempre una base di partenza ingente imponente incalcolabile e cioè il tesoro che il nonno che il nonno di Giovanni Agnelli cioè il vecchio senatore Giovanni Agnelli ha lasciato soprattutto al suo nipote prediletto cioè a Gianni e per darvi un'idea di quanto fosse e sia immenso il tesoro lasciato dal vecchio senatore Agnelli il fondatore della Fiat anzi colui che portò via la Fiat ai suoi soci e per questo fu anche processato agli inizi del secolo scorso per darvi un'idea di quanto è costituito questo patrimonio pensate che il senatore Giovanni Agnelli nonno di Gianni ha avuto la fortuna fortuna tra virgolette diciamo così di avere a disposizione ben due guerre mondiali se poi ci aggiungiamo anche una serie di altre guerre la campagna d'Africa l'Albania eccetera voi potete immaginare che cosa significhi per un'azienda che produce mezzi militari autoveicoli aerei motori per navi motori per automobili armi che cosa significhi il fatto di avere la possibilità di rifornire un esercito l'esercito italiano per molti anni nel corso di due gigantesche guerre e allora i profitti che erano immensi i profitti non venivano dal saggio senatore Giovanni Agnelli investiti oppure trasformati in carta in banconote in dollari in marchi in franchi svizzeri no 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 il senatore Agnelli aveva una grande predilezione per quel meraviglioso metallo luccicante specialmente le mattonelle da 7 kg lingotti d'oro da 7 kg e voi pensate con i profitti di ben due guerre mondiali quanti lingotti d'oro quanti treni quanti carrimerci è stato possibile stipare da parte del senatore Giovanni Agnelli di questi lingotti d'oro che non hanno non sono rimasti in Italia ma hanno preso la via della Svizzera quindi quando Gianni Agnelli eredita dal nonno ai danni dei suoi stessi fratelli delle sue stesse sorelle soprattutto ai danni dei cugini nasi questo gigantesco questo enorme patrimonio costituito da lingotti d'oro accumulati dal nonno beh capite che la base di partenza del tesoro all'estero è notevole se poi aggiungiamo a questo gigantesco tesoro lasciato dal nonno in oro aggiungiamo tutto ciò che l'avvocato Agnelli attraverso il family office di Ginevra e di Zurigo attraverso quei funzionari quei finanzieri che abbiamo visto e di cui abbiamo parlato le altre volte capeggiati da Siegfried Maron detto Sigi e da Ursula Schulte due uomini che comunque riferivano sempre a Gabetti in prima istanza prima che all'avvocato beh voi avete idea della somma tra i lingotti d'oro da eredità di dal nonno e il patrimonio accumulato negli anni capite bene che un ufficio un family office che ha ben ben 12 funzionari a tempo pieno 12 finanzieri a tempo pieno che studiano l'andamento dei mercati le chiusure il fuso orario la chiusura degli americani quindi tutte queste cose investe e moltiplica i piani e i pesci ebbene Margherita naturalmente è stata tenuta fuori da tutto questo anche quando il padre era in vita chissà tutto secondo lei ma è abbastanza giustamente è soprattutto Gianluigi Gabetti che era proprio l'uomo ombre il cardinale Richelieu l'uomo della corona il consigliere e poi presto parleremo in una delle prossime puntate anche del libro che ha scritto Gianluigi Gabetti e che non è uscito e probabilmente non uscirà mai e vi spieghiamo perché è un libro di un anno fa circa ebbene torniamo dunque a Margherita alla sua versione dei fatti e alla sua dettagliata elencazione nell'esposto che ella presenta ai due sostituti procuratori di Milano Fusco e Ruta quindi alla procura della Repubblica di Milano e lo presenta e poi va chiede di essere interrogata e lo sarà per tre volte da quegli stessi sostituti procuratori poiché vuole dettagliare vuole rispondere alle loro domande vuole dettagliare ciò che era contenuto nell'esposto e quindi dice se avete bisogno di spiegazioni di ulteriori particolari sono disponibilissima a darle torniamo all'esposto di Margherita Margherita continua a battere sul punto in particolare riferendosi a Grande Stevens il quale nelle vesti di esecutore testamentario anche se poi ha rinunciato avrebbe dovuto essere a disposizione di una delle due eredi di entrambi nella stessa misura con la stessa equità al di sopra delle parti per fornire loro tutte le informazioni che esse richiedevano invece Margherita dice che ben prima già prima di rinunciare allo suo incarico di esecutore testamentario Grande Stevens non le diceva completamente la verità il suo parlare il suo rispondere alle sue lettere con delle richieste precise trovava dei riscontri molto fumosi molto vaghi ma Margherita nel momento in cui viene in possesso viene in possesso di una carta fondamentale di una cosa che lei non conosceva cioè una fondazione in Lichtenstein la Alchione Foundation la fondazione Alchione Alchione ricordatelo questo nome perché anche la villa di St. Moritz dell'avvocato Agnelli la ex villa dello Shah di Persio si chiama Alciona in ladino quindi Alchione poteva derivare da questo in lingua tedesca del Lichtenstein beh quando Margherita viene in possesso delle carte riguardanti la fondazione Alchione e non è Grande Stevens né Gabetti a fornirgliele e nemmeno coloro che sono stati indicati da Gabetti cioè Siegfried Maron e il commercialista Ferrero in Italia quando Margherita viene a conoscere che esiste questa fondazione Alchione rimane allibita e stupita perché ha la prova che Grande Stevens le ha nascosto molte cose perché in quella fondazione vede che uno dei quattro protectors i protettori sono suo padre anzi suo padre non c'è più erano suo padre ma gli altri tre erano Gianluigi Gabetti Siegfried Maron il capo del Family Office di Zurigo ma soprattutto Grande Stevens e allora dice ma se lei era uno dei protectors se lei ha firmato per accettare di fare il protector della fondazione Alchione in Lichtenstein Avaduz come mai non mi ha mai informato di questo nelle vesti di esecutore testamentario ebbene a questo punto Margherita si concentra ancora dice contro Grande Stevens dismessa la veste di esecutore testamentario e indossata quella di legale della controparte Grande Stevens di fronte alle rinnovate richieste non più solo mie ma anche del mio avvocato Emanuele Gamna di conoscere il quadro complessivo della successione di mio padre non solo non risponde di non saperne nulla ma mostra di avere la disponibilità di tale quadro che tuttavia mi farà conoscere solo a determinate condizioni quindi abbiamo un passaggio fondamentale vale a dire Grande Stevens prima dice di non conoscere il quadro complessivo del patrimonio che è entrato nella successione non ne so nulla poi mostra di avere la disponibilità di tale quadro dopo che io scopro che lui è uno dei protectors della fondazione Alchione che lui mi aveva tacciuto e infine mi dice che mi darà le notizie riguardanti il quadro complessivo della situazione a una condizione la condizione principale e cioè che io dichiari firmi preliminarmente di accettare a occhi chiusi eventuali disposizioni dell'avvocato Agnelli a favore di eredi o terzi qualunque sia stata la loro forma anche non sacramentale così scrive Grande Stevens ma com'è possibile che tu chieda a una erede a una legittima erede indicata nel testamento non una erede così perché si è appellata si è aggrappata la legge di successione i suoi diritti di successione come è possibile che tu le dica prima lei signora Margherita deve firmare un impegno in cui accetta eventuali disposizioni di suo padre a favore di eredi ma come se io sono l'erede se io sono l'erede devo firmare di accettare a occhi chiusi eventuali disposizioni a favore di altri qualunque ne sia la forma anche non sacramentale ecco allora vedete che qui le cose cominciano a farsi incandescenti tengo a dire subito aggiunge Margherita che ho utilizzato le virgolette per il termine controparte allorché ha parlato di sua madre perché ancora oggi nonostante tutto quanto ho dovuto subire sia personalmente che attraverso la stampa nutro per mia madre sentimenti di profondo irrinunciabile affetto sentimenti di figlia semplicemente poiché la ritengo vittima della situazione vittima dell'occultamento di informazioni sul patrimonio complessivo di nostro padre e di suo marito tengo a dire subito quindi Margherita dice non solo la fregata non sono solo io la fregata è anche mia madre da questo occultamento tengo a dire subito aggiunge Margherita che ancora oggi nonostante tutto quanto ho dovuto subire sia personalmente che attraverso la stampa un'altra volta continuo a nutrire per John Lapo e Ginevra quell'amore insuperabile e incondizionato che solo una madre può avere e solo per i propri figli tutti in misura uguale anche gli dice di John come mia madre è vittima della situazione quindi vedete la comprensione della madre la quale nonostante quello che ha visto nonostante gli atteggiamenti nonostante il complotto di cui è stata vittima di cui ha la prova provata lo avevamo visto all'interno dello studio del notaio Morone al momento dell'apertura del testamento che suo figlio John e sua madre hanno complottato contro di lei non le hanno detto niente l'hanno fatta trovare di fronte al fatto compiuto magari non le hanno detto niente perché qualcuno aveva suggerito loro di non dirle niente magari sono stati zitti e le hanno fatto quella sorpresina proprio perché qualcuno aveva interesse a far sì che ci fosse questa spaccatura che Margherita la rompiscatole diciamo così non avesse gli stessi poteri degli altri due e per tenere lontana per emarginare per allontanare Margherita qual era il modo migliore quello di metterle contro il figlio che è una cosa terribile e la madre altra cosa terribile voglio precisare prosegue Margherita che quando l'avvocato grande Stevens nel luglio 2003 poneva condizioni per la mia conoscenza del quadro complessivo cioè quello che vi ho detto lei se vuole conoscere il quadro complessivo prima deve firmare una dichiarazione in cui si impegna a non impugnare a non opporsi a eventuali donazioni a favore di altri ma come sono l'erede del 50% devo firmare una cosa del genere beh quando poneva condizioni per la mia conoscenza del quadro complessivo grande Stevens non faceva riferimento alla fondazione Alchione in Liechtenstein e dalle somme ad esseri conducibili ma ad un ulteriore quadro complessivo nel luglio del 2003 infatti io ero già venuta a conoscenza da mesi fin da marzo aprile maggio dell'esistenza della fondazione Alchione del valore degli asset ad essi direttamente o indirettamente attraverso tutte le sussidiarie della fondazione Alchione cioè le BVI le British Virgin Island le società nei paradisi fiscali in particolare la Calamus la Fima la Springrest la Sykestone e il Sigma riconducibili alla Alchione proprio perché ne avevo avuto notizia dello stesso Maron il quale inconsapevolmente si era comportato bene ma poi era stato subito stoppato inconsapevolmente si era comportato bene perché sapeva che io essendo una delle due eredi essendo per di più la figlia dell'avvocato Agnelli avevo diritto di conoscere queste cose e ha cominciato a portarmi un foglio dove c'erano queste società allora il fatto che Grande Stevens non potesse ignorare l'esistenza della fondazione Alchione della Calamus della Fima della Springrest della Sykestone e del Sigma era evidente era il protettore uno dei quattro protettori della scatola della fondazione Alchione che conteneva tutto Maron gestiva tramite Alchione tra l'altro beni di cui mia madre aveva la disponibilità tra in particolare un conto CS Credit Suisse e Grande Stevens parlava dunque di un patrimonio occulto ulteriore oltre a quello che io credevo ci fosse rispetto a quello già donato a mia madre e da lei messo in Alchione perché anche Dona Marella sapendo che c'era questa struttura di cui non aveva mai parlato con la figlia che cosa fa? aveva infilato dentro ad esempio gli asset del CS Account del conto Credit Suisse tornando allo sviluppo storico dei fatti più significativi di questa vicenda Margherita scrive nel mese di marzo del 2003 e racconta come è venuta a conoscenza di questa fondazione Alchione di cui né sua madre né suo figlio né Gabetti né Grande Stevens come esecutore testamentario le avevano parlato nonostante fosse l'erede nonostante loro dicessero la fiducia che suo padre nutriva in noi eccetera beh la fiducia va dimostrata nei confronti del defunto anche nel rispetto verso una figlia beh nel marzo di 2003 mi viene a fare visita ritengo su input di Gabetti ma non ne sono sicura il dottor Siegfried Maron che conoscevo personalmente e perfettamente come persona vicina al dottor Gabetti egli non so dire se d'intesa con Gabetti e Grande Stevens mi parlò esclusivamente degli asset conferiti da mia madre nella fondazione Alchione quindi non mi disse tutto il resto e nelle citate società offshore delle British Virgin Islands ad essa connesse bene nella sua disponibilità nella disponibilità di mia madre ma all'evidenza frutto di donazioni provenutele nel corso degli anni da mio padre quindi Margherita da Maron viene a sapere che nel corso degli anni prima della morte l'avvocato Agnelli aveva fatto delle donazioni a donna Marella quindi in pratica aveva già depauperato il suo patrimonio solo a favore della moglie e non anche a favore della figlia e del figlio Edoardo che allora era ancora vivo ma tutto quello che era sotto il controllo di mia madre nella fondazione Alchione era un conto ma Maron per esempio non mi parlò di patrimoni intestati a mio padre né di altre donazioni a favore di mia madre o di altri terzi soggetti persone fisiche o giuridiche cioè proprio quelle che stavano a cuore a grande estime nel momento in cui chiede a Margherita la condizione per avere il quadro complessivo del patrimonio è che lei firmi di accettare qualunque donazione sia stata fatta da suo padre ad altri ma Maron non aveva parlato di questi aveva parlato solo della fondazione Alchione Maron mi consegnò un prospetto che recava segni grafici manoscritti credo da lui e disse che tutti gli asset indicati in quel foglio oltre alle società già citate c'era anche l'asset CS account il conto Credit Suisse si trattava di un conto corrente presso Credit Suisse intestato a mia madre Marelle ma tutti quei beni mi disse Maron scritti nel foglietto facevano parte della fondazione Alchione molti di questi erano stati già donati da mio padre a mia madre senza che io ne fossi stata informata né prima né dopo la morte di mio padre e tantomeno da mia madre subito dopo la morte del babbo mi disse Maron che tutti i tali asset erano nella disponibilità di mia madre Marella che ne aveva però il solo usufrutto nessuno poteva attingere il capitale per cui non se ne poteva fare un'immediata colazione cioè una trasformazione in liquidi e quindi un'attribuzione ai due eredi la proposta proveniente da controparte cioè da donna Marella anche se Margherita dice mi spiace dover chiamare così mia madre era che alla morte di mia madre quindi la proposta che facevano gli avvocati il gruppo che stava intorno a donna Marella dopo la morte dell'avvocato era questa allora alla morte di mia madre alla morte di donna Marella io avrei ricevuto la metà di tutto quello che era nella fondazione Alchione mentre l'altra metà sarebbe andata da mia madre direttamente ai miei soli tre figli e il cane quindi a John Lappe Ginevra e gli altri cinque nipoti donna Marella se li dimentica sempre ma dice Margherita ma com'è possibile che io possa accettare una cosa del genere ed ecco perché Grande Stevens insiste perché io firmi questa clausola preliminare non posso accettare questa cosa perché perché comunque la metà della fondazione Alchione è la mia ed è la mia non nel momento in cui morirà mia madre ma è la mia adesso perché se era un bene di mio padre a questo punto dato che sono l'erede del 50% è mia per la metà Marron dice ma no è tutta di donna Marella quindi le può disporre come vuole perché viene fatta questa donazione ecco perché insistono perché Margherita firmi la clausola di rinunciare di accettare tutte le donazioni mi opposi dice Margherita tale ingiustificabile divisione e rimasi perplessa sia perché sapevo che mio padre al di là di quanto donato in vita a mia madre disponeva di sostanze proprie non so dire se direttamente o indirettamente intestate a lui sia perché Marron quale documentazione attestante la connessione tra la fondazione Alchione e le sue subsidiarie nonché la consistenza della fondazione e il suo complesso non portò altro che il citato prospetto di un solo foglio all'interno del quale le varie società venivano ricollegate solo graficamente e suddivisi in due gruppi di consistenza equivalente a significare che la proposta di mia madre di come ella la concepiva al momento della sua morte era già una cosa preparata da loro a fronte di così poco di questo semplice foglietto pretesi da Marron ulteriori informazioni per comprendere innanzitutto se ciò che mi si rammostrava in modo così misero fosse tutto ciò che residuava cioè fosse davvero tutto il resto vediamolo un po' questo foglietto perché è importante il famoso foglietto pensate il titolare del family office che ha a disposizione carte contro carte eccetera vedete che qui c'è scritto proposal la Elena la vedete perché è tagliata la foto proposta proposta quindi lui quando si presenta a Margheri proposta vedete net asset gli assets netti guadagni netti la cifra di fianco sono i milioni di dollari 773 milioni sicav i titoli 194 milioni net asset 2 net asset 1 e net asset 2 584 milioni viene fuori un totale di 584 perché da questo tolgono le sicav quindi 773 meno 194 fa 584 milioni e vedete la proposta è di a Margherita la metà 292 milioni a Donna Marella la metà 292 milioni e qui trovate di fianco quello che attribuiscono a Marella una parte della fondazione Alchione 22 milioni di dollari la Calamus 400 mila dollari la Fima 187 milioni di dollari la Springrest viene divisa tra le due l'83 milioni pari al 51% a Margherita 81 milioni pari al 49% a Donna Marella che ha però a disposizione altre 3 asset il famoso account CS il conto al Credit Suisse 9 milioni la Sicstone 91 milioni e la Sigma 110 milioni quindi questo è il foglietto che danno a Margherita come dire prenda qua accetti altrimenti deve aspettare che muoia sua madre per avere la metà allora attenzione quando poi vedremo la cifra finale su cui si mettono d'accordo voi vedrete che questa proposta fatta per conto della madre a Donna Marella è una proposta misera 292 milioni e 292 milioni voi dite eh magari capitasse a noi però è una proposta misera rispetto a quella a cui arriveremo cui arriveremo andiamo avanti Marron si disse non in grado di fornirmi le informazioni che gli chiedevo oltre a questo misero foglietto e mi inviò un tale Ivan Ackerman vediamo che cosa dirà questo Ivan Ackerman che arriva direttamente da Vaduz e lo vedremo tra poco nella seconda parte di questa ottava puntata di Agnelli Segreti a dopo eccoci ancora in onda per la seconda parte della ottava puntata di Agnelli Segreti allora continuiamo nella lettura dell'esposto che Margherita Agnelli fa alla magistratura alla procura di Milano e i sostituti Fusco e Ruta allora è arrivato Marron il capo del family office di Zurigo è andato a trovarla in Svizzera nella villa di Margherita sul lago di Ginevra ad Allaman ha portato con sé un foglietto un semplice foglietto credendo che Margherita sia contenti di questo che vede queste cifre 292 milioni questa si accontenterà sicuro 292 milioni non sono mica bruscolini no no sono bruscolini rispetto a tutto il malloppone che si trova là allora Marron dice signora se vuole delle torriere informazioni io la introduco presso Ivan Hackerman responsabile del First Advisory Group con sede in Liechtenstein che cos'è il First Advisory Group è una società privata come ce ne sono tante in Liechtenstein che prepara tante scatole vuote quando un signore da qualunque parte del mondo arriva a Vaduz e vuole nascondere il suo denaro per tenerlo lontano dal fisco del proprio paese o anche dei suoi illegittimi eredi che cosa fa si rivolge al First Advisory Group come si può rivolgere a centinaia di altre finanziarie analoghe e chiede una scatola vuota in questa scatola vuota che si chiama Fondazione Alchione vengono messe nel corso degli anni titoli società società domiciliate dei paradisi fiscali denaro contante eccetera allora che cosa succede mi recai dice Margherita a Vaduz dove incontrai il signor Ackerman il quale mi mostrò il regolamento e lo statuto di Alchione quindi finalmente Margherita riesce a entrare nella Fondazione Alchione e a capire che cosa c'è lì dentro e queste carte mi confermarono ciò che Marron mi aveva consegnato in copia tale documentazione mi confermava in particolare che i protectors della Fondazione altro a mio padre erano proprio Gabetti Grande Steven e Marron e che in tale qualità costoro avevano il potere di dare ordini vincolanti al board of foundation in sostanza disponevano pienamente come se ne fossero i proprietari degli asset della Fondazione in una maniera incredibile perché mia madre che ne era la beneficiaria io che ne erano una beneficiaria mio fratello che ne era il beneficiario finché non è morto avevamo meno poteri di Gabetti di Grande Steven e di Marron nella loro qualità di protector in sostanza essi disponevano pienamente di questi asset e ciò è confermato anche dal fatto che la situazione prevista alla morte di mia madre non era affatto quella che in quel momento mi veniva proposta dalla controparte tramite Marron nulla infatti era previsto a favore degli altri miei figli ma solo dei tre figli e il can dice solo quando morirà sua madre lei signora Margherita prenderà la metà degli asset che ci sono dentro la Alchione Foundation di Vaduz e i primi tre figli i tre figli di primo letto prenderanno l'altra metà e gli altri miei figli dice Margherita ma mia madre sa che cosa sta facendo o no da dove le deriva questa discriminazione tra otto nipoti tre sì e cinque no quando chiesi di avere la documentazione sulle strutture intercorrenti tra la fondazione e le società offshore che mi si dicevano e costituivano gli asset cioè c'erano quelle che rendevano e portavano gli utili e soprattutto circa la provenienza degli asset stessi cioè da dove arrivano quando sono stati comprati a chi risultano intestati che società sono che cosa producono da dove derivano i loro profitti mi venne opposto un fermo rifiuto in quanto io non ero beneficiario della fondazione e il signor Ackerman non aveva ricevuto disposizione in tal senso né poteva riceverne da me perché nello statuto della fondazione in un primo tempo l'avvocato Agnelli aveva indicato come beneficiaria soltanto la moglie in caso di sua morte e aggiunge ma anche che in caso di morte è del beneficiario numero uno cioè lui e della beneficiaria numero due cioè sua moglie sarebbe subentrata Margherita quindi se Margherita che è la beneficiaria numero tre ma sua madre è ancora viva e quindi non è ancora scattata la clausola va a chiedere delle cose ai gestori della fondazione Alchione e questi gliene devono dire perché non è un'estranea attenti se per caso avete aperto una Anstalt una Stiftung una fondazione in Liechtenstein per tenere a riparo il vostro denaro del fisco attenti perché se non lasciate disposizioni chiare a qualcuno quando il giorno in cui morirete ci sarà la lotta per la vostra eredità rischiate che i vostri eredi oppure coloro cui avete intestato con la società e che ne sono i beneficiari vadano a Vaduz e si trovano di fronte dei muri perché si trovano di fronte dei muri perché il denaro quel denaro che avete portato a Vaduz è depositato nella banca che è di proprietà della casa regnante a Vaduz e in secondo luogo perché la legge del Liechtenstein che cosa fa? tutela voi considerati con disprezzo degli evasori fiscali che hanno voluto portare al sicuro i loro soldi per sfuggire alle leggi del loro paese o verranno tutelati dalle leggi del Liechtenstein coloro che invece sono questa First Advisory Group questi detentori di scatole vuote questi attiratori questi centri che attirano del denaro fate le cose per bene se li avete portati di là lasciate ben chiaro è inutile che portiate degli avvocati tra un bravissimo avvocato italiano tedesco francese inglese americano e l'avvocato del Liechtenstein che tutela queste fondazioni queste stiftung queste anstalt tremende tutte parole con le consonanti è chiaro che loro tengono per il Liechtenstein non per voi anzi state attenti che dicono voi vi denunciamo al fisco del vostro paese se continuate a insistere a rompere le scatole chiesi anche se vi fossi la possibilità di dividere subito tali asset con mia madre chiede Margherita per collazionarli vale a dire per rendere a disposizione per legarli alla successione di mio padre e mi fu detto che in caso di consenso del beneficiario cioè di mia madre il board amministrativo a suo insindacabile giudizio e io capì immediatamente il riferimento ai protectors poteva concedere tal anticipata liquidazione quindi abbiamo una figlia e rede del 50% del patrimonio del padre che si sente dire eh no dobbiamo sentire il board dobbiamo sentire i protectors cioè dobbiamo chiedere il permesso di poter dare a lei la sua quota di beni della fondazione alchione dobbiamo chiedere il permesso non a sua madre che non conta niente lo dobbiamo chiedere a Gabetti Grandestimes e Maron che sono i tre protectors ma io mi domando ma come ha fatto un padre e un marito Gianni Agnelli padre di Margherita e marito di Marella a fare ad accettare a firmare delle clausole del genere che danno un potere immenso a tre strane i Gabetti Grande Stevens e Maron anziché conferire il potere a sua figlia e a sua moglie in caso di sua morte come ha fatto leggeva le cose che gli sottoponevano ad affirmare credeva a quanto gli dicevano costoro oppure era consapevole di ciò che faceva perché se poi andate a leggere bene quelle clausole di questi statuti ci sono delle cose agghiaccianti che nessun padre che nessun marito accetterebbe a danno dei propri eredi a danno della propria moglie a danno dei propri figli a danno dei propri nipoti e quali sono queste clausole agghiaccianti sentitene una qua i beneficiari hanno il diritto ogni anno di ricevere gli asset i dividendi prodotti dalla fondazione e dalle sue società quindi hanno diritto di ricevere ma attenti non possono chiedere nulla non possono chiedere se questi asset sono giusti o no se questi dividendi sono giusti o no come mai sono più bassi dell'anno prima non possono chiederlo non possono chiedere da quali beni sono prodotti questi asset da quali strumenti finanziari da quali investimenti non lo possono chiedere e qualora lo dovessero chiedere o attraverso una lettera o attraverso un avvocato o addirittura attraverso l'intervento della magistratura ebbene nel momento stesso in cui i beneficiari chiedono l'UMI da dove arrivano questi asset decadranno immediatamente dal loro diritto di beneficiari non solo loro ma anche i loro eredi in linea diretta vi rendete conto com'è possibile che Gianni Agnelli abbia firmato una roba del genere che danneggia così tanto sia sua moglie sia soprattutto sua figlia sia soprattutto i suoi nipoti sia soprattutto le due eredi in quel momento capite che se ci fosse stato vivo Edoardo avrebbe piantato su un 48 dell'altro mondo ma Edoardo non c'era più era morto ormai da tre anni andiamo avanti quindi sono i protectors che hanno il potere vero non essendoci più il quarto protectors Gianni Agnelli sono Gabetti Grande Stevens e Maron che decidono quello che si deve fare decidono quanti asset sono stati prodotti come vanno divisi buonanotte nessuno può chiedere niente e se chiede perde immediatamente il diritto ad avere gli asset Margherita forse nella sua ingenuità non lo so come volete definirla pensa e spiega cerca di spiegare questa cosa incredibile firmata da suo padre consapevolmente cerca di spiegarlo in questo modo ha voluto mettere a riparo sua moglie e me perché probabilmente probabilmente queste società producevano degli asset dei dividendi dei profitti con dei prodotti con dei beni che non si può dire è l'unica spiegazione dice voi prendete i soldi i dividendi tutti gli anni tacete non chiedete niente perché se sapeste magari verreste coinvolti in qualche inchiesta perché c'è da pensare solo questo da dove derivavano gli asset di queste società dalla vendita di armi e chi lo sa ma per quale ragione un padre un marito deve occultare deve porre delle condizioni delle penali così rigide comandano gli altri tre il board Gavetti Grande Stevens e Marron voi non dovete sapere niente e se chiedete di sapere perdete subito tutti i vostri diritti andiamo avanti qualche tempo dopo il 7 maggio del 2003 lo stesso Ackerman l'uomo del Liechtenstein oltre a ribadirmi per iscritto i limiti della possibilità di pervenire ad una liquidazione anticipata di beni e la indisponibilità ad offrirmi la documentazione richiesta quindi non può avere la documentazione Margherita mi trasmetteva lo schema di Alchione dove si fosse giunti ad un'immediata collazione e puntualizzava che First Advisory Group non faceva parte del Board of Directors cioè i Board of Directors hanno escluso addirittura il gestore diciamo così che stando allo schema legato era conducibile a tutta Alchione tra il mese di aprile 2003 quando la parola passò agli avvocati e l'ottobre del 2003 i miei avvocati Jean Patry che sostituì presto Dominique Rochard il quale come ho detto era molto inclino alla transazione io invece volevo vederci chiaro i nuovi avvocati Jean Patry ed Emanuele Gamna e loro insistettero con pervicacia in contatti incontri e di fide tutti i volti fermamente a ottenere la conoscenza di quel quadro complessivo che gli avvocati di controparte cioè gli avvocati di mia madre Carlo Lombardini e Grande Stevens pensate l'ex esecutore testamentario che si mette a fare l'avvocato di una delle due parti si ostinavano a non rivelare se non a precise condizioni cui io non intendevo assolutamente sottomettermi oltre alle citate lettere di Grande Stevens anche l'avvocato Patry mi disse che l'avvocato Lombardini in via confidenziale e coperta da segreto professionale gli aveva confermato in un incontro dell'11 giugno 2003 che effettivamente la massa successoria raccoglieva non solo quelli donati in vita amarella ma molti altri beni ulteriori beni con tali presupposti e nell'inutilità dei vari incontri con una lettera dell'avvocato Patry del 13 ottobre del 2003 i miei avvocati indicarono ai loro colleghi di controparte quale ultimo incontro per avere informazioni sul quadro complessivo quello fissato per il 23 ottobre 2003 quindi avete la contezza della situazione da marzo a ottobre vanno avanti i scambi di lettere trattativi marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre otto mesi in cui i due avvocati di Margherita non cavano un ragno dal buco e adesso cominciano anche i sospetti di Margherita nei confronti dei suoi avvocati finalmente quell'incontro atteso da otto mesi tra gli avvocati di una parte e gli avvocati dall'altra si svolge anzi viene fissato perché si svolge viene fissato per il 23 ottobre se non ci fosse stato questo incontro si sarebbe agito giudizialmente per il rendicontro contro tutte le persone fisiche e giuridiche suscettibili di disporre di informazioni quindi Margherita sta già pensando all'azione che farà poi nel 2007 ci sta già pensando nel 2003 se non si svolge questo incontro che noi abbiamo fissato per il 23 ottobre dopo otto mesi di inutile attesa noi denunceremo faremo un'azione giudiziaria per avere il rendiconto dopo quell'incontro del 23 ottobre 2003 tutto cambiò devo però fare due precisazioni quindi è bastata la minaccia di portare tutte le carte in tribunale e tutto è cambiato le due precisazioni quali sono indicate ai magistrati di Milano da Margherita già a fine luglio subito dopo un incontro con Gabetti il mio avvocato Gamna aveva mostrato di condividere la posizione di quest'ultimo e anche lui voleva accedere alla transazione che poi consisteva nel ricondurre all'asse le donazioni immobiliari e finanziarie raccolte da mia madre in Alchione e dividere quel che risultava al 50% senza insistere per avere prima una visione completa quindi dice anche l'avvocato di Margherita e ne ha già fatto fuori uno l'avvocato Rochard perché voleva fare delle transazioni mentre lei voleva arrivare al punto voglio avere il quadro preciso del patrimonio di mio padre anche l'avvocato Gamna comincia dopo un incontro con Gabetti comincia a dire ma è meglio fare una transazione e la transazione in cosa consiste? in briciole tutto quello che c'è nella fondazione Alchione che è riconducibile a sua madre perché lo ha donato in vita a suo padre soltanto a sua madre lo dividete al 50% e amici come prima quindi lei deve rinunciare Donna Margherita ad avere la sua soddisfazione cioè la visione completa allora a quel punto Margherita dice visto l'atteggiamento del mio avvocato Gamna gli scrissi due righe affinché restino onde il mio mandato a lui non potesse essere frainteso in futuro vale a dire il mandato che io do al mio avvocato Gamna non è quello di fare una transazione ho già detto che non la voglio fare è quello di avere una visione complessiva punto e basta se lei vuole stare nei limiti di questo mandato bene altrimenti se vuole altre ipotesi fuori dai piedi e io la licenzio dopodiché Gamna mi manifestò assoluta solidarietà e coesione quindi dopo aver parlato con Gabetti Gamna dice ma ha ragione Gabetti cerchiamo una transazione no dopo aver ricevuto queste due righe e allora le andiamo a leggere queste due righe perché sono importanti vediamo un po' qual è la linea di Margherita espressa in una lettera e quindi come tale vincolante per il suo avvocato eh l'avvocato Gamna caro Lele lo chiama Lele Emanuele Gamna dopo matura riflessione ritengo scriverti queste due righe affinché restino in te in modo diverso da una conversazione telefonica quel che tu mi hai riferito ieri del tuo incontro con G.G. Gianluigi Gabetti è totalmente privo di buonsenso anche se ai tuoi occhi ed altro intendimento sposare l'opinione di Gianluigi Gabetti sull'intenzione reale di mio padre di escludermi dalla comunione ereditaria dei suoi beni a te pare plausibile visto lo scarso riguardo che mio padre aveva per il sesso femminile onestamente però ti dico siamo nel mediocre universo delle balle puoi pensare e sposare con Gianluigi Gabetti questa visione di mio padre ma non è certo quella che io difendo e che sposo allora qual è allora cosa vuol dire questo vuol dire che Gamna dopo essere tornati da quell'incontro con Gabetti Gabetti deve avergli detto se interpretiamo bene Gianni Agnelli voleva escludere la sua figlia dalla comunione ereditaria visto lo scarso riguardo ed era anche plausibile questa intenzione visto lo scarso riguardo di mio padre per il sesso femminile che discorsi sono sì è giusto il discorso che la dinastia Agnelli deve essere sempre uno solo a comandare e questo uno non deve essere una donna ma qui ne abbiamo due di donne abbiamo Margherita e abbiamo Marella e allora se ne abbiamo due come mai è possibile che Gianni Agnelli abbia nei confronti del sesso femminile sua moglie una certa considerazione nei confronti del sesso femminile sua figlia non ne abbia e quindi decida di escluderla dalla comunione ma stiamo scherzando Margherita di Fati questa visione di mio padre non è certo quella che io difendo e che sposo in questo disegno Margherita lo chiama disegno non c'è mio padre ma la volontà dei quattro vivi che travestono i loro interessi con delle menzogne che profittano al loro disegno l'italiano non è tanto perfetto quindi i quattro vivi che travestono i loro interessi con delle menzogne che profittano per fare per realizzare il loro disegno tutta questa successione è svolta con un solo intento che è quello dell'esclusione totale dei miei diritti e di quelli dei miei figli a qualsiasi pretese ereditaria sia i miei diritti adesso sia quelli dei miei figli successivamente qui siamo nel regno del delirio e del sopruso e se devo essere onesta con il mio cuore sino in fondo e con tutta la mia persona e con il mio intelletto qui non trovo mio padre che non era né un uomo ingiusto né un uomo senza cuore non mi avrebbe mai fatto un simile affronto in tutta la mia vita non l'ho mai visto agire in tal modo che non avesse compiuto il necessario per lasciare dietro di sé ogni aspetto del suo bene in ordine e in armonia questo è sicuro dice Margherita su suo padre lasciando le cose andare per il loro verso queste cose così sono andate ma che oggi mi si vogliano derubare di ogni diritto e con questo peraltro illegale ed immorale manovra come maschere del grottesco cercano di far entrare mio padre nella loro mentalità contorta come se fosse un miserabile individuo questa è la cosa più vergognosa io sto leggendo letteralmente i punti le virgole le interpunzioni la consecuzio però rileggiamolo lasciando le cose andare per il loro verso queste cose sono così andate sono andate così in confusione ma che oggi oltre ad aver fatto questo mi vogliano derubare di ogni diritto e con questa peraltro illegale ed immorale manovra vogliano usare queste maschere del grottesco e cerchino di infilarci di farci entrare anche mio padre in questa loro mentalità contorta come se fosse un miserabile individuo questa è la cosa più vergognosa questa è la cosa più vergognosa con queste righe lele ti lascio riflettere ancora un po' più in là più profondamente dentro ai limiti di quello che ci è dato di capire e di vedere quello che io chiedo e che voglio vedere è il bene è l'amore e la giustizia ed è nel rispetto delle persone questo per me era ed è mio padre e non vedo perché Gianluigi Gabetti Gigi o altri dei quattro decidano di sporcare la sua memoria mio padre mi ha dato il senso della giustizia del vero e del bello e io quindi perché dovrei tradirlo oggi perché dovrei piegarmi a vedere un mondo che non è in linea con i valori che egli mi ha dato e sostenuto perché dovrei accettare di vedere in lui un manovratore intrigante come invece sono loro come si può accettare che tutti quei G svariati in coro come tanti quadri di Baccon cardinali ed altri ci dicono questo era ed è l'uomo io non sono d'accordo e non lo sarò mai l'uomo era ben altro non è riuscito ad integrarsi nella sua non è riuscito a integrarmi nella sua successione perché loro non mi volevano perché sono scomoda non sanno cosa farsene di una persona come me non sto nei canoni non gli servo non sono loro utile quando Margherita parla a tutti questi G si riferisce evidentemente a G Gabetti G Grande Stevens andiamo avanti allora io credo che questo sì era per lui un dolore ma anche un piacere perché ero io sua figlia nella enorme libertà di essere chi sono grazie a lui e alla sua generosità e questo lui lo sapeva ma gli altri per questo mi hanno sempre invidiata e odiato perché alle regole che io mi sarei dovuta piegare e alle regole di mio padre invece che io mi sono piegata ma non oltre ecco perché le sento dentro nel più intimo del mio essere e qui non ci sono le sue regole vedo che non ci sono le sue regole vedi Lele conclude nella lettera all'avvocato Emanuele Gamna bisogna con calma operare affinché ci sia maggiore visibilità e poi verrà chiaro un disegno che concorda con una qualità di vita che rispetta la vera volontà e questa non può manifestarsi durevolmente in un pandemonio di illegalità ed assurde pretese di un defunto che non c'è più loro attribuiscono a un defunto che non c'è più delle illegalità attribuiscono delle volontà che non ci sono non è più accettabile girare intorno alla debolezza del mio sesso per impormi un atteggiamento così vergognosamente sbagliato che io sia una donna mi dava tutti i diritti di esistere appieno e il tuo amico Gigi Gianluigi Gabetti è solo un gran cafone guardatelo cafone questo è un negoziato soprattutto sulla dignità umana dei vivi e dei defunti ti abbraccio Margherita eh ve le avevano mai raccontate queste cose tutti i giornaloni la stampa il Corriere della Sia ve le avevano mai raccontate c'è più in questa lettera che in tutto il resto Gigi Moncalvo vi ringrazia per l'ascorto prossimo appuntamento con Agnelli Segretti lunedì alle 22.30 come di consueto grazie e buon proseguimento con i vostri programmi ricordate i libri i libri introvabili lo capite perché sono introvabili i libri che contengono questi testi lo sapete lo avete capito perché sono introvabili li trovate solo su www.ggmoncalvo.it nelle librerie non faticate neanche a cercarli grazie arrivederci grazie 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 grazie